Ciao a tutti, in questo video corto vi mostrerò come ho implementato l'autenticazione mutuale SSL con il chip ESP32. La mia board dev è ora gestita il programma che potete trovare nel mio repository Github repository e il mio laptop è collegato alla network wifi DSP32 in modo soft EP Ora apriamo un browser web e cerchiamo di collegare all'addressa IP del dev board usando il protocollo HTTPS Come potete vedere la connessione ha fallito. In realtà il mio browser non ha il certificato SSL e il corrispondente private key per autenticare al servizio. Nel mio blog potete trovare tutte le informazioni per generare questi certificati e key In Firefox potete imporre il certificato e key in questo modo Opzione Advanced Selezionate il tab di certificati e clicca su view certificati clicca su import e selezionate il file P12 con il key e il certificato Il file è proteggetto Ora che Firefox ha i certificati necessari In questo modo, proviamo a collegare a collegare il servizio Come potete vedere, Firefox ora ha chiesto il certificato per presentare al servizio come identificazione E finalmente, la connessione funziona il nostro portale è iniziata